Guardatemi qua, fatemi un sorriso Ok, da quanto tempo seguite Tiziano? Da sempre Da sempre, perfetto Correva l'anno? Giusto così, da dove venite? Da Bologna, però vi chiamo a Pano Ah ok, perfetto E da quanto tempo siete qua in attesa in coda? Cosa vi spinge a farvi tutte queste ore di coda? Questa attesa sotto il sole col caldo La voglia di vedere da Bologna, mi chiesto del 2020 Ah beh, giustamente, con certi rimandati nel tempo Quindi è la prima volta che lo vedete dal vivo, sì? Cosa vi aspettate? Una grande festa Ottimo Che legami avete a livello emotivo con le sue canzoni? Eh, una è affoggiata al ricordo Voi da quanto tempo seguite Tiziano Ferro? Da anni Anni Diciamo che siamo piccole Da quando siamo piccole in realtà Mia mamma l'ascoltava quando già io ero infanzia Quindi da un bel po' Cioè, da 23 anni Perfetto Giustamente Sono più vecchia di voi, capisco E da dove siete qui di Padova? Da Castelfranco Da quanto tempo siete qua in attesa? In realtà da un'oretta Sì, un'oretta Ci siamo presi un po' prima Però siamo qui, tranquilli Sì, esatto Ci siamo organizzate molto bene Esatto Abbiamo cibo E poi quel che verrà Un sacco di piantini Esatto Giustissimo